una delle parti che fa più sorridere durante la campagna elettorale sono quelle delle proposte di spesa molto si ci si esercita a con molta fantasia in quelle che sono tutte le possibili spese nessuno invece dice racconta come e quali possono essere le entrate e poi la vita amministrativa diventa diversa e ci sono esempi come quello delle strisce blu a taranto che servono per fare cassa in questo caso io voglio proporvi e proporrò ovviamente al candidato sindaco degli strumenti che servono per farci incassare per liberare delle risorse sostanzialmente nel bilancio del comune di taranto che serviranno per altre iniziative per concentrarsi su quelli che sono i programmi di sviluppo per abbassare il livello della pressione fiscale per ridurre per esempio il numero delle strade e dei civici con presenza di strisce blu davanti di strisce blu questi strumenti quali sono il primo tutta va rivista tutta la procedura degli appalti e quindi la sostituzione di quelli che sono gli appalti tradizionali con forme più innovative che sono le concessioni il project financing il contratto di disponibilità e le locazioni finanziarie mi direte che cosa sono tutto questo genere di cose beh hanno un preciso obiettivo non è l'amministrazione che si carica i costi di un'opera ma l'amministrazione dice costruisci l'opera i costi sono i tuoi il rischio è il tuo il corrispettivo ovviamente della gestione di quell'opera però è il tuo io vediamo se il caso ti aiuto ma un piccolo aiuto non totale oppure se il caso questo aiuto non c'è questo ovviamente libera tutta una serie di risorse la seconda questione è quella dei concorsi è inutile mettere in piedi macchine dei concorsi ci si può avvalere delle liste degli idonei di altri comuni limitrofi oppure bandire bandi di concorsi insieme ad altri comuni oppure gestire funzioni insieme ad altri comuni si può fare tutto ciò e questo ovviamente comporterà dei notevoli risparmi di spesa e liberare delle delle risorse che sono importanti e poi infine per quanto riguarda i vea parte di tipo tradizionale quelli che non si potranno sostituire procederemo con centrali di committenza più ampi se dobbiamo comprare le penne lo facciamo insieme ad altri comuni in modo che il costo della penna sicuramente verrà ridotto